Bosco Reale, Teatro Minerva 25 ottobre 2012, manifestazione cittadinanza attiva e buon governo per la crescita delle nostre città. Ospiti il sindaco Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, Don Tonino Palmese di Libera Campania e il prefetto straordinario Michele Capomacchia, prefetto e commissario di Bosco Reale. Luigi Buffone, presidente dell'associazione Il Milograno, che oggi ha organizzato questa manifestazione presso il Teatro Minerva di Bosco Reale. Una cittadinanza attiva e buon governo per la crescita delle nostre città. Qual è il senso e a quale esigenza risponde questa manifestazione? La ringrazio, vado subito nel merito della domanda. Noi siamo un'associazione in vita da dieci anni a Bosco Reale, è come celebrare un decennale questa sera con noi perché effettivamente abbiamo l'esigenza di fare una riflessione, una riflessione aperta alla città dove vogliamo dire che la partecipazione, la demagogia partecipativa insieme ai valori della buona politica possono dare risposte ferme, reali, concrete per il governo dei nostri comuni. Quindi partendo proprio da questa considerazione, il ruolo di cittadinanza attiva insieme ai valori della buona politica crediamo che insieme ci possono portare verso quella gestione del bene comune negli interessi essenziali della cittadinanza proprio. E quindi il ruolo dei cittadini che possono essere parte integrante del processo democratico all'interno anche dei paesi? Certamente, noi lanciamo un messaggio di speranza questa sera soprattutto sotto l'aspetto della partecipazione perché c'è una realtà partecipativa a Bosco Reale non indifferente, non è un deserto. Ci sono tante associazioni teatrali, sportive, culturali per cui tutti insieme si può fare qualcosa effettivamente con la partecipazione per elevare il tono sociale e culturale di questa città in effetti. Don Tonino Palmese, qual è il senso di questa manifestazione e soprattutto l'utilità che può avere questa manifestazione per la cittadinanza e grazie poi all'intervento della cittadinanza? Credo che tutte le realtà abitate da esseri umani hanno bisogno di riscoprire il senso delle proprie radici, la propria appartenenza ma anche del proprio contributo. Credo che avere un rapporto con le proprie radici che si ferma nostalgicamente a quello che è il passato è abbastanza limitato. Recuperare invece dalle radici l'esigenza e la forza per poter guardare avanti con le future generazioni, con le nuove generazioni, il progresso di un paese, di una comunità, credo che sia un elemento determinante e importante. Per cui mi sembra che questa sera siamo tutti qua a riscoprire ciascuno, nonostante le nostre, al di là delle nostre provenienze culturali e territoriali, siamo qui a riscoprire l'importanza dell'esserci come protagonisti dentro la città. Che cosa si può consigliare a un giovane, a un bambino, per riscoprire le proprie radici, per cercare di impegnarsi nella propria realtà sociale e politica? Ricordo, mi torna in mente una bella espressione, mi torna in mente grazie alla domanda evidentemente, una bella espressione che Gabber citava in un suo testo, si può essere vivi e felici solo se lo sono anche gli altri. Ecco, questo è il senso di una cittadinanza autentica, la felicità da soli non esiste. Se c'è è in coppia, è in gruppo, è in comunità. Prefetto Michele Capomacchia, che sarà questa manifestazione insieme al sindaco De Luca, insieme a Don Tonino Palmese, una manifestazione per scoprire il ruolo della cittadinanza all'interno del processo politico e sociale di un paese che può essere quello di Bosco Reale. Ecco, quali sono le sue riflessioni riguardo a questa manifestazione? Beh, io sulla manifestazione sicuramente devo dare l'apprezzamento per quanto riguarda il coinvolgimento comunque della cittadinanza, perché Bosco Reale in questo momento vive un momento di crisi, la crisi istituzionale che prevede la presenza di un commissario straordinario e quindi c'è l'urgenza che si torni alla vita democratica con la partecipazione della gente del posto che sappia operare per il proprio paese. Io sono qui anche con molto piacere per conoscere personalmente Don Tonino, anche perché ho buoni contatti con Don Ciotti e Libera, con cui sono state realizzate delle interessanti iniziative in favore delle popolazioni di altre zone del sud Italia, in modo particolare. Quindi sono ben contento di essere qui in questo momento, anche se gli impegni poi mi costringeranno ad andare via un po' prima. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, interverrà e darà il proprio contributo a questa discussione, una discussione sulla cittadinanza e il buon governo per la crescita delle città. Qual è il ruolo che può avere la cittadinanza all'interno della gestione del governo di un paese e come può essere sorretta dalla buona politica? Io ho riflettuto in questi giorni di grande ondata di corruzione nel nostro paese sul ruolo dei cittadini singoli. Abbiamo seguito la vicenda del Lazio, di Fiorito, le porcherie che sono venute a nostra conoscenza. E però mi ponevo questa domanda, ma le decine di migliaia di persone che hanno votato per questo Fiorito, dove erano? Non sapevano come viveva, che camminava con i SUV, che passeggiavano le sgallettate, le ferie nei paesi esotici. Voglio dire questo, che ogni cittadino deve imparare ad avere il coraggio della libertà. dobbiamo liberarci della comodità della clientela politica, dobbiamo essere convinti che la clientela porta al disastro del nostro paese e non risolve neanche i problemi del singolo cittadino. Quindi il punto di partenza per un rinnovamento delle comunità è la scelta di libertà e di coerenza che devono fare tutti i cittadini, a cominciare ai più giovani. Noi abbiamo educato in questi anni i giovani non ad essere liberi, ma a piegare la testa, a cercarsi un padrone. Questo non va bene. Poi ovviamente possono avere un ruolo decisivo le istituzioni. È chiaro che se hai un territorio nel quale non c'è un posto di lavoro, una prospettiva di sviluppo, c'è a disperazione. E c'è perfino fisicamente, nei quartieri, l'immagine del nulla, del degrado. Spazi perduti nei quali un ragazzo o una ragazza non sa che cosa fare, dove trovare un momento di aggregazione. È chiaro che questo favorisce la crescita di devianze, fenomeni criminali. Dunque le istituzioni hanno un ruolo decisivo per promuovere lo sviluppo, creare occasioni di crescita, di lavoro, dinamizzare l'economia dei nostri territori. Per quanto riguarda il ceto politico poi bisogna fare attenzione. Io vivo in una realtà, Salerno, che non è la Svizzera. Siamo in una realtà del sud, 50 chilometri da Napoli, da Casal di Principe. E tuttavia credo di poter dire che c'è una condizione di vita dignitosa. Si vive bene, c'è sicurezza, c'è serenità, c'è rispetto delle regole, c'è una città giardino. Perché? Non perché non ci siano spinte o problemi anche da noi, ma perché per essere liberi gli amministratori devono evitare di firmare cambiali prima delle elezioni. Se firmi una cambiale con un camorrista per farti dare qualche migliaio di voti alle elezioni, poi le cambiali le devi pagare. E questo innesca il processo di corruzione e di inquinamento delle istituzioni. Allora, coraggio da parte dei cittadini, spirito di libertà, ruolo dinamico e positivo delle istituzioni per creare lavoro, creare impresa, creare futuro e poi un controllo sugli amministratori perché siano sempre persone per bene, non compromesse con forze degenerative del nostro tessuto sociale. Così si può vivere bene anche qui.